Buon pomeriggio a tutti. Io sono Francesca del Circolo Culturale Primo Piano e vi ringrazio per essere così numerosi oggi. Ogni anno ci troviamo qui, in questo splendido teatro, per il giorno della memoria. Warum Auschwitz? Perché Auschwitz? Perché? Ogni anno il giorno della memoria ci richiede un enorme sforzo della ragione e anche a livello emotivo. Quest'anno ancora di più per tutto quello che sta accadendo. Diventa però sempre più urgente chiedersi perché l'uomo arrivi a fare tanto male all'altro uomo. Oggi secondo me dobbiamo fare un passo in più, non solo chiederci perché, ma perché ancora. Vi riporto una riflessione dello scrittore Simone Tempia che si interroga sul come celebrare questo giorno così difficile. Non confondiamo memoria e ricordo. Perché ricordare significa celebrare i morti da non dimenticare. Fare memoria significa conservare i fatti da non ripetere. Quindi dobbiamo agire ed è sempre più difficile agire senza più avere testimoni diretti. Per questo oggi siamo grati a Emanuele per la sua presenza e ringraziamo tutti i familiari che si fanno carico del testimone con passione e dolore per continuare ad avere quel filo rosso con il passato. Ringraziamo per la collaborazione il Comune di Correggio che si rende sempre enormemente disponibile per eventi di questo tipo e la Fondazione Fossoli che da anni cammina al nostro fianco soprattutto in questa giornata del ricordo. Ringraziamo anche i nostri sponsor che ci permettono di promuovere eventi di qualità. CMB Building Innovation, Coop Service, Coop Alleanza 3.0, Assicop Emilia Nord, Agente Unipolsai Assicurazioni. Io vi ringrazio per essere qui e faccio salire sul palco Fabio Tessi che porta un saluto da parte del Comune di Correggio. Buonasera a tutte e tutti, grazie intanto per essere qui così numerosi. Porto il saluto dell'amministrazione di Correggio di cui appunto sono il sindaco protempore da pochi mesi. Siamo molto orgogliosi di questa serie di iniziative sulla memoria, sulla Shoah che il Comune è riuscito a mettere in piedi grazie tanto al lavoro dell'assessore Tesauri che ringrazio, dei collaboratori degli uffici e del lavoro anche di tutte le associazioni del territorio che quotidianamente svolgono veramente una funzione eccezionale per la nostra comunità. Ringrazio oggi in modo particolare primo piano per questa iniziativa, gli ospiti Fiano e Ponzani che ringrazio veramente tantissimo e ringrazio la Fondazione Fossoli, in particolare porto anche i saluti del Presidente Castagnetti che è qui in platea con noi. Grazie veramente, porto solo una mia brevissima riflessione, una mia sensazione su quando andai alcuni anni fa al Memoriale Milano della Shoah, binario 21, e ho ancora impresso molto chiaro quel muro all'ingresso con la scritta indifferenza, questa parola che appunto crea un muro tra le persone e su questa suggestione lascio la parola ora agli ospiti che diranno veramente delle sensazioni molto interessanti per tutti quanti. Grazie veramente, buona serata. Ringraziamo ancora il Sindaco e ringraziamo anche Pierluigi Castagnetti qui presente e ora chiamo sul palco i nostri ospiti Emanuele Fiano, scrittore e presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli, già consigliere comunale a Milano e deputato al Parlamento e stato presidente della Comunità Ebraica di Milano. Invito sul palco anche Michela Ponzani, storica e saggista, conduttrice televisiva e radiofonica, collabora con Rai3, RaiStoria Buonasera Buonasera Le cucette sono rifatte, ma ci hanno severamente proibito di toccarle e di sedervi sopra. Così ci aggiriamo senza scopo per metà della giornata nel breve spazio disponibile, ancora tormentati dalla sete furiosa del viaggio. Poi la porta si è aperta ed è entrato un ragazzo dal vestito a righe, dall'aria abbastanza civile, piccolo, magro e biondo. Questo parla francese e gli siamo addosso in molti, tempestandolo di tutte le domande che finora ci siamo rivolti l'un l'altro inutilmente. Ma non parla volentieri, nessuno qui parla volentieri, siamo nuovi, non abbiamo niente e non sappiamo niente. A che scopo perdere tempo con noi? Ci spiega di malavoglia che tutti gli altri sono fuori a lavorare e torneranno a sera. Lui è uscito stamane dall'infermeria, per oggi è esente dal lavoro. Io gli ho chiesto, con un'ingenuità che solo pochi giorni dopo già doveva parermi favolosa, se ci avrebbero restituito almeno gli spazzolini da denti. Lui non ha riso, ma col viso atteggiato ad intenso disprezzo mi ha gettato «Vous n'êtes pas à la maison». Ed è questo il ritornello che da tutti ci sentiamo ripetere. Non siete più a casa, questo non è un sanatorio, di qui non si esce che per il cammino. Cosa vorrà dire, lo impareremo bene più tardi. E infatti, spinto dalla sete, ho addocchiato fuori da una finestra un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si aggirava là fuori e me lo ha strappato bruscamente. «Warum?» gli ho chiesto nel mio povero tedesco. «Here ist kein warum». «Qui non c'è perché», mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone. La spiegazione è ripugnante ma semplice. In questo luogo è proibito tutto, non già per riposte ragioni, ma perché a tale scopo il campo è stato creato. Se vorremmo viverci, bisognerà capirlo presto e bene». Avete ascoltato la voce di Sara Gozzi, attrice e operatrice teatrale. Buon pomeriggio. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Emanuele Fiano. «Warum? Perché?» Abbiamo deciso di intitolare questo incontro con questo interrogativo drammatico questa sera perché vorremmo partire proprio da qui, dalle parole di Primo Levi e cercheremo di capire attraverso le parole di un libro importante di cui questa sera discutiamo sempre con me, le lezioni sulla Shoah, che Emanuele Fiano ha voluto dedicare alla memoria. Questo libro è un viaggio nella memoria dei sopravvissuti, ma è anche un viaggio in un racconto drammatico che è quello dei carnefici, dei responsabili. E guardate, lo dico subito perché noi stiamo attraversando queste celebrazioni in un momento particolare quest'anno. Abbiamo visto di nuovo scendere in piazza neofascisti che fanno il saluto romano. Siamo ancora, potremmo dire, immersi nel Novecento. Abbiamo la guerra che è tornata alle porte dell'Europa, prima col conflitto in Ucraina, ora di nuovo in Medio Oriente. Gli europei pensavano di essersi lasciati alle spalle l'età posteroica e pensavano che il Novecento fosse finito e invece questi fatti ci dicono ancora quanto siamo ancora immersi nella storia del Novecento. Il riflettere sulla Shoah, lo abbiamo sentito dalle parole del Presidente Mattarella, io proprio da qui vorrei partire. Nel discorso del Presidente Mattarella l'altro giorno, quando, parlando di Shoah, ha iniziato il suo discorso riferendosi alle responsabilità e alle colpe del regime fascista che aveva approvato le leggi razziali del 1938 e a tanti italiani. Le celebrazioni del Quirinale quest'anno si sono aperte per ricordare i giusti tra le nazioni. Ebbene, noi faremmo un torto ai sopravvissuti, alle vittime della Shoah, se non ricordassimo anche gli ingiusti, coloro che hanno avuto delle pesantissime colpe, delle responsabilità nella persecuzione e nello sterminio. Allora proprio da qui vorrei partire, perché questo è interrogativo. Perché? Perché tanti italiani hanno deciso di voltarsi dall'altra parte, di vivere nell'indifferenza e di non fare i conti fino in fondo con le colpe, con le responsabilità, perché ancora oggi questo Paese continua a non fare i conti con il regime fascista e a mettere sotto accusa, invece, quella che è stata la pagina più nobile della sua storia, potremmo dire, cioè la resistenza. Intanto buonasera e grazie al Comune di Correggio, alla Fondazione Fossoli, a chi ha organizzato questo pomeriggio per la giornata della memoria. Grazie dell'invito, grazie a Michela Ponzani che mi intervista, ma che è anche una grande autrice. Il suo processo alla resistenza è un libro molto importante nel nostro pensiero complessivo su quegli anni. Voi avete intitolato questa serata su quella domanda che io metto in uno dei capitoli del libro per spiegarsi il perché dei comportamenti che contribuirono in questo Paese e nell'Europa tra gli anni 20 e 40 a costruire la catastrofe della Shoah e complessivamente la catastrofe di quelle due principali dittature, quella fascista italiana e quella nazista tedesca, va letta anche la risposta con grande enfasi. Here is the kind of a room. Nelle dittature non bisognava e non bisogna ancora chiedersi il perché. E ad Auschwitz, che era il fulcro, l'emblema di quell'universo di dittatura che fu il nazismo, la regola era l'assenza del perché. Perché se tu togli il perché, togli il nerbo del principio di umanità nel quale noi siamo cresciuti e vissuti. Il perché è la ragione della nostra vita. Noi viviamo chiedendoci il perché delle cose, ci chiediamo il perché chi ci sta vicino si comporta in un certo modo, ci chiediamo il perché chi comanda produce degli ordini o chi governa nelle democrazie, decide o prende alcune decisioni. Ci chiediamo il perché il mondo funzioni in un certo modo e perché si trasformi in un certo modo il globo terrestre, il suo ambiente. Ce lo chiediamo continuamente il perché. Perché noi non viviamo solo di istinto come gli animali. Gli animali vanno verso il cibo se hanno fame e se magari li viene negato se lo procurano commettendo atti di violenza. Oppure uccidono perché questo è naturale, come il leone e la gazzella per mangiare. Oppure se tocchi i loro cuccioli possono diventare violenti. Hanno un istinto sedimentato nel tempo che muove le loro azioni, le loro condotte, i loro comportamenti. Noi no. Noi ci diamo delle risposte per decidere come vivere. Cerchiamo o decidiamo di appartenere a un determinato sistema culturale, ideologico, che in strada le nostre scelte. Ma ad Auschwitz no. Ad Auschwitz Primo Levi riceve la prima e unica lezione fondamentale. Qui non c'è un perché. Le SS non avevano bisogno di un motivo o di una spiegazione per uccidere un ebreo ad Auschwitz. Potevano ucciderlo in un istante con un colpo di frusta dato dove poteva ammazzare sul collo. Oppure potevano ucciderlo aizzandoli contro un Doberman addestrato a strappare i genitali ai maschi per vederli morire dissanguati. Oppure potevano uccidere facendo fare la ginnastica dei piegamenti ai prigionieri ridotti a scheletri a 40 chili fino a che questi piegamenti si interrompevano non perché erano stanchi ma perché morivano. Oppure potevano uccidere in tanti modi senza un perché. Perché il senza perché è il nerbo di ogni sistema dove non c'è libertà. E Primo Levi, voi avete sentito una parte che sta all'inizio proprio di Sequest un uomo ma verso la fine, all'undicesimo capitolo di Sequest un uomo, Primo Levi dà una risposta straordinaria, una delle più grandi pagine della letteratura italiana moderna su quale sia invece la risposta dell'essere umano che non perde la radice della sua umanità. Primo Levi nell'undicesimo capitolo di Sequest un uomo cita il ventisesimo capitolo della Commedia di Dante, della Divina Commedia, quel capitolo che inizia come tutti sapete, fatti non foste per vivere come brutti ma per seguire virtute e canoscenza e ci dice e poi spiega al suo compagno piccolo che voleva che lui gli insegnasse all'italiano, il suo compagno francese a cui Primo Levi decide con straordinaria intuizione di tradurli i brani di questo, della cantica, tradurli in francese, sceglie questo canto che divide i bruti, cioè coloro che non sono umani, da coloro che seguono la virtù, cioè che hanno un codice morale e che hanno la canoscenza, che hanno la volontà di sapere. E qual è l'Ulisse che descrive quel ventisesimo canto? È l'emblema dell'umanità che noi abbiamo conosciuto, perché l'Ulisse di Omero è l'Ulisse che torna indietro, è l'Ulisse che torna a casa sua, che si muove per nostalgia, che dopo aver fatto vincere la guerra ai greci con il cavallo, con la truffa del cavallo inserita nella città di Troia, dopo aver attraversato i pericoli più straordinari, il ciclope e poi la maga Circe e le sirene, tutti i pericoli che la vita ci può presentare, anche le finte attrazioni e ciò che ci è sconosciuto come il ciclope, i mostri, ciò che non conosciamo e ci fa paura, lui torna a ciò che conosce, torna indietro a Penelope, a Telemaco, al suo padre morente, al cane Argo, ma invece l'Ulisse dantesco, e questa è la risposta di Primo Levi, l'Ulisse dantesco è l'Ulisse che va avanti, ma misi me per l'alto mare aperto. È l'idea di un pensiero di progresso che costruisce il futuro perché si basa sulla conoscenza, perché l'Ulisse dantesco è quello che dice ai suoi marinai, gli parla Ulisse a Dante dal fondo della fossa dove è ficcato perché lui era stato bugiardo, mendace con il cavallo di Troia, gli parla da questa fossa vinto ad un altro dei condannati con una fiamma doppia che li gira sopra e che misteriosamente è simile alla fiamma del cammino di Bircano che mio padre descriveva, e gli racconta a Dante quell'Ulisse, l'Ulisse dantesco, l'Ulisse inventato da Dante, gli racconta io convinci me i marinai ad andare oltre ciò che conoscevamo, oltre le colonne d'Ercole, ma misi me per l'alto mare aperto, aperto, l'idea del progresso, dell'apertura, della conoscenza e poi però Dante che non ammette che l'uomo possa andare oltre i confini del mondo che conoscevano, oltre la potenza divina che stava con loro in quel 300 fiorentino in cui Dante viveva, lo fa morire perché la nave viene sommersa da un'onda. Ma è l'Ulisse che si spinge oltre, che Primo Levi usa come risposta a quel qui non c'è nessun perché. E dunque se mi chiedi come mai ancora oggi noi vediamo tornare in fondo quelli che non si chiedono il perché della nostra storia italiana, le risposte sono diverse. La prima è per me sacrosanta ed è certa da 45 anni, da quando ho l'età della ragione, da quando mio padre, 46, da quando mio padre cominciò a raccontarmi questa vicenda e prima di raccontarmi delle SS di Birkenau mi raccontò dei fascisti che loro starano. La prima ragione è perché questo paese non ha fatto fino in fondo i conti con il fascismo. Non le ha fatti dal 1945 e in poi. Abbiamo scelto di non farli, per ragioni forse che nel 45 erano in parte plausibili, magari per la volontà di non scatenare una guerra civile. Abbiamo scritto una dodicesima disposizione finale transitoria della Costituzione che da un lato accoglieva le spinte di chi voleva che fosse chiaro che quella era una Costituzione antifascista e dunque che vietava la riorganizzazione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Del disciolto però. Fu accettato un compromesso su quel aggettivo. Disciolto, come se quella fosse l'unica forma possibile in futuro di antitesi con l'articolo 21 che libera la nostra espressione di idee. E poi soprattutto il secondo comma, perché nel secondo comma di quella dodicesima disposizione si scrisse che dopo cinque anni coloro che avevano collaborato con il governo fascista nelle questure, nelle prefetture, nelle polizie, nei torturatori di questo paese potessero riprendere servizio. E così fu. E dunque ci fu una brevissima interruzione. Molte persone che avevano avuto quel ruolo che certo non avevano nessuna intenzione di abbiurare ripresero servizio in questo paese. E poi succede, succedono, permettetevi di non essere, credo anche tu, così scandalizzato dei 500 che hanno alzato il saluto romano ad H. Larenza, perché sentite, non ci raccontiamo delle storie. Sono 60 anni che alzano il braccio destro per fare il saluto romano in ogni luogo d'Italia, ogni anniversario dell'arresto di Mussolini a Dongo, ad ogni funerale a Predappio, ad ogni celebrazione. Ovviamente sono perché si è espressa la pietà per ogni morto e particolarmente per degli omicidi odiosi come quello di H. Larenza o come quello di Sergio Ramelli a Milano, ma un conto è commemorare il morto, un conto è fare apologia del fascismo. E dunque quei fatti si ripetono perché li abbiamo lasciati ripetere. Perché abbiamo pensato che nell'articolo XXI della nostra Costituzione fosse compresa la possibilità di esprimere ogni idea, ma noi sappiamo, perlomeno tra noi diciamolo, che il fascismo non fu un'idea, fu un crimine. Fu un crimine, assolutamente. Io non posso che essere d'accordo con te su questi aspetti, sul tema della continuità dello Stato. Ho scritto tanto, me ne sono occupata tanto. Qui c'è proprio un problema di continuità che è prevalente rispetto alle discontinuità e c'è un problema, un pezzo consistente di questo Paese che non si è mai riconosciuto nei valori dell'antifascismo, nei valori della resistenza che non si vuole riconoscere. È inquietante il fatto che ci siano persone che ancora credono, che fanno apologia aperta di fascismo, che credono ancora nei miti della razza, nella supremazia dello Stato, nel culto della personalità. Però io vorrei partire dalle cose che tu hai scritto, ritornando un po' indietro, perché tu hai prima citato le parole di Primo Levi del viaggio che si fa per andare nell'abisso e poi del viaggio che si fa per tornare nel mondo dei vivi, che è un mondo che non accoglie. A me hanno sempre molto colpito le parole di Edith Brook quando racconta del modo in cui, il freddo modo in cui fu accolta da questa sorella in Israele che pensavamo, eravamo degli avanzi del lager e pensavamo che il mondo si inginocchiasse davanti a noi per chiedere perdono e invece ci siamo sentiti rifiutati perché c'era un mondo che voleva andare avanti e voleva ricostruirsi e non voleva ascoltare. Questo è forse il motivo per il quale tanti hanno ricacciato nella loro memoria quello che avevano vissuto e hanno scelto di parlare dopo tanto, tanto tempo. Allora è proprio da qui che vorrei partire, dall'inizio dell'abisso, da quel viaggio, perché già durante il viaggio dei vagoni piombati, quando si viene ammassati senza cibo, senza acqua, senza luce, senza la possibilità di respirare, quello è già un modo per annientare o già un modo per eliminare, non solo per fiaccare lo spirito di resistenza, ma anche per eliminare i più deboli, i più anziani, i bambini. E noi abbiamo ricordato l'anno scorso a Roma il rastrellamento, la razzia del ghetto del 16 ottobre del 43, a proposito di responsabilità del fascismo, la razzia del ghetto, 1022 persone portate via, il più piccolo, la più piccola delle vittime nacque nella caserma dell'81esima fanteria la notte del 16 ottobre, non ne conosciamo il nome perché morì appena salito sul vagone insieme a sua madre. Allora partiamo proprio da qui, dal viaggio verso l'abisso, perché tu lo descrivi con parole molto dure, riprendendo quelle che sono le parole dei carnefici, del modo in cui i carnefici facevano i loro resoconti scritti ed elaboravano senza alcuna umanità quell'orrore. Sì, io credo che tu ti riferisca alla descrizione che io faccio dei verbali delle SS su una prima parte dello sterminio che è meno conosciuta, prima dall'entrata in funzione delle camera a gas e dei forni crematori di Auschwitz, all'indomani dell'occupazione della Polonia allo scoppio della guerra del 1 settembre del 1939 da parte della Germania nazista comincia l'opera di ripulitura dagli ebrei della Polonia. La Polonia doveva essere Judenfrei, libera da ebrei, e soprattutto nella Polonia orientale, nel governatorato centrale c'è subito un'azione di eliminazione degli ebrei e lì accade un fatto che ci colpisce come spiegazione del fatto che i criminali fossero persone comuni esattamente come noi. C'è un celebre libro di uno storico americano che si chiama Christopher Browning che scrive uomini comuni per l'appunto e anche un altro testo di Goldhagen che si chiama I volenterosi carnefici di Hitler che raccontano la storia del battaglione 101. Il battaglione 101 fa parte di un ramo dell'organizzazione della sicurezza nazista che viene fondata nel 1939, appunto dopo qualche mese dell'occupazione della Polonia, che si chiama Ordnungspolizei, la polizia d'ordine, viene formata da Himmler, su input anche di Hitler, perché la Germania aveva impegnati tutti i militari nell'occupazione della Polonia che intanto andava avanti verso l'est, verso la Russia e ovviamente occupati anche sul fronte occidentale, verso i Paesi Bassi, la Francia e poi le altre truppe che già erano arrivate poi in Italia e dunque avevano bisogno di una formazione di polizia che si occupasse di questi territori occupati e formano una formazione di polizia a ordinamento civile, come si dice in Italia dopo la legge 181 e cioè mettono insieme soprattutto pensionati, ma da cui viene fuori una fantasiosa ricostruzione del nostro Presidente del Senato circa l'attentato di Via Rasella, mette insieme le polizie locali, polizie rurali e polizie dei piccoli paesi, quindi polizia d'ordinamento civile con incarichi prettamente civili, delle cose che riguardano le multe o le diatribe locali, agricole, paesane, molti di loro, la gran parte di loro pensionati ed alcuni in servizio effettivo. Ho citato la Russia perché voi ricorderete forse che quest'anno la Russia ha detto che in fondo che i partigiani di Roma erano stati così terribilmente criminali da avere ucciso dei pensionati musicanti, ha detto a proposito di quei militari. Quei militari facevano parte, era un battaglione, quelli di Roma, di Via Rasella, dell'Orderungspolizei e quindi lui aveva probabilmente in mente, aveva letto qualcosa, gli era stato raccontato del fatto che c'erano molti pensionati, ma quelli di Roma non erano pensionati, avevano 33 anni di media e non erano musicanti, usavano come usavano le truppe naziste, circolare nelle città, a Roma soprattutto, a passo militare e cantando le canzoni del loro battaglione. Non erano musicanti, il battaglione, fratello di quello oggetto dell'attentato di Via Rasella, combatteva nella campagna romana contro i partigiani. E dunque creano questi battaglioni dicendoli che saranno occupati in operazioni di polizia normale nel territorio occupato del governatorato centrale della Polonia dell'Est. Questo battaglione 1901 è formato da personale di Hamburgo, sono quasi tutti pensionati, si sa tutto di loro perché furono processati nel dopoguerra e resero testimonianze complete, ci sono i verbali, e invece dopo due settimane che li hanno formati e che li hanno portati in Polonia, li impiegano nello sterminio degli ebrei. Gli ebrei venivano uccisi a uno a uno, a fucilate. C'era una sola regola, eliminare ogni ebreo dei paesi dove venivano inviati. Vengono inviati in un posto grande come Correggio e ci sono 1500 ebrei, li devono uccidere quel giorno, li eliminano, li fanno scavare una fossa comune, mettono una prima fila, li sparano in testa, poi prendono a forza una seconda fila, li mettono davanti e li sparano in testa, poi una terza fila, li sparano uccisi senza peritarsi di verificare se quelli sotto sono morti, e poi un'altra, poi un'altra, e poi nel paese accanto, e poi a Scandiano, e poi a Albinea, e poi in tutti i paesi della provincia, e verbalizzano con meticolosa precisione teutonica. Oggi, Correggio, uccisi 1500 ebrei, oggi Scandiano, uccisi 800 ebrei, oggi Albinea. E costoro non sono imbevuti di odologia, non sono SS, non si sono iscritti al partito nazista, non hanno fatto militanza, non sono quadri di quel partito, no, niente di tutto questo. Erano pensionati, giocavano a carte, andavano a pescare, aiutavano in casa, facevano piccoli lavori di falegnameria, ovviamente in vento, ma erano uomini comuni, come dice Browning, assolutamente comuni, e lì sta un meccanismo che ci serve a studiare il perché noi possiamo capire che fossero uomini comuni, e questa è una notizia terribile che fossero uomini comuni, è la notizia più terribile che ci potevano dare, anche se è una notizia a due facce, come una medaglia, perché la prima è che se erano uomini comuni, come noi, esattamente come noi, peraltro provenienti dal cuore della cultura europea di quel tempo, di quei decenni, di quel secolo, dove erano sorti i più importanti scienziati e medici e pittori, artisti e musicisti e scrittori, che ancora oggi noi, sulle cui conoscenze ancora oggi noi viviamo, lavoriamo, quante conoscenze della fisica contemporanea derivano da fisici tedeschi, quante conoscenze della medicina ancora, quanta parte dell'arte che noi ammiriamo o della letteratura che noi leggiamo deriva ancora da autori di quel tratto di storia contemporanea e vicina a noi, e peraltro un discorso analogo si potrebbe fare per l'Italia in parte, e se erano uomini normali, il dramma è che tutto ciò vuol dire che potrebbe ripetersi. Com'è che tu fai a prendere uno che è in pensione da un po', da cinque, da dieci anni, che faceva le, combinava le multe magari per una diatriba tra confini agricoli, macchina in sosta vietata? Non so, perché non me lo immagino che ad Hamburgo in quel periodo si facessero le multe per sosta vietata, ma comunque qualcosa del genere o che semplicemente passava, aveva i suoi hobby, coltivava il giardino, leggeva i libri, com'è che tu riesci a prenderlo, a portarlo e non dirgli ti inquadro nell'esercito, farai la guerra, sparerai, no, guarda, mi fa molto piacere che sei arrivato oggi, domani vai lì e uccidi 1500 esseri umani, non ancora con le camere a gas, non avevano cominciato, ma sparandoli in testa. E ci sono delle descrizioni spaventose di come li sparavano in testa e del fatto che alcuni di loro erano un po' colpiti dal fatto che si sporcavano le divise con l'esplosione dei cervelli di queste persone. Allora poi li sparano a terra, decidono che a terra c'è meno rischio, li fanno mettere a terra testa in giù. Non era obbligatorio, si poteva chiedere di venire esentati, le esenzioni erano lo 0,1, lo 0,2%, è tutto verbalizzato. Questo era un battaglione di 500 persone, ci furono da una a tre persone, tra cui anche un comandante che disse che lui non ce la faceva, non le successe niente, lo spostarono in un altro posto, lo misero a fare altri incarichi. A Babiar, che è la foresta di Kiev, oggi molto nota perché è la capitale di un paese purtroppo aggredito dalla Russia in guerra, Babiar è una foresta. A Babiar in tre giorni fucilarono 53.000 ebrei, è il più grande eccidio di quel periodo. Poi dopo l'azione confluisce su tre campi principali di sterminio nella Polonia orientale, cioè Treblinka, Sobibor e Belzec, dove vengono uccisi circa un milione di persone. 700.000 invece li avevano uccisi o a fucilate oppure iniziavano ad ucciderli mettendoli in dei gaswagen, cioè dei vagoni a gas, dei camion chiusi ermeticamente, più o meno ermeticamente, riempiti, facendo rientrare i fumi di scarico dentro il camion. A metà degli anni Ottanta, Claude Landsman, un regista tedesco, produce un docufilm terribile e bellissimo, non so come descriverlo, spaventoso, forse l'avete visto, si vede ancora, si può vedere in forma integrale su YouTube, è libero da diritti. È molto lungo, dura nove ore, ma se ne possono vedere dei brani. Il suo intento è quello di interrogare i polacchi, civili polacchi, di quel tempo, degli anni Ottanta, che abitavano nei luoghi dello sterminio. Va a Chelmno, che è lo stesso nome di un campo di sterminio piccolo, piccolo vuol dire che hanno ucciso solo 100-150.000 ebrei, che era lì nella foresta vicino. Ci va con un sopravvissuto, l'unico sopravvissuto, che era un ragazzetto di 13 anni, molto agile, svelto, che i tedeschi si divertivano a fare correre con una catena ai piedi, con i due piedi legati, ma lui era molto bravo, molto agile, correva lo stesso. E poi cantava, aveva una bella voce, questo me lo fa amare, perché è la stessa cosa che è successa a mio padre, forse che ha salvato anche mio padre, il fatto di saper cantare davvero una bella voce. E questi polacchi che vivevano allora, negli anni Ottanta, e oggi, in un paese completamente privo di ebrei, gli viene chiesto di raccontare cosa sapevano. Oggi abitano le case che erano degli ebrei, le abitano dicendo che effettivamente erano degli ebrei. Non è che si peritano di dire sì, no, è successo qualcosa di strano. Non è che hanno traslocato, li hanno uccisi i precedenti proprietari, ma la cosa che è sconvolgente di questo racconto, di questa testimonianza, di queste interviste, è che loro raccontano che vedevano questi gas wagon che attraversavano il paese e sentivano le urla degli ebrei, che erano stati i loro vicini di casa, che stavano morendo nel camion dove infilavano i gas, per poi arrivare alla foresta, che era lontana 100 metri, non 500, non lo so, dal confine del paese dove li rovesciavano. Quando arrivavano alla fine del viaggio, il carro era pieno di morti, li rovesciavano in una fossa comune che avevano già creato. Raccontano tutti i polacchi, questi contadini polacchi di questo paese agricolo. Si ricordano degli ebrei raccolti in una chiesa strapiena, a cui hanno tolto, gli avevano fatto lasciare tutto quello che avevano, gli avevano fatto lasciare le valigie e poi caricati sul camion. Si ricordano tutto. Dunque erano tutti quelli che commisero i crimini abominevoli e coloro che furono indifferenti, che non vuol dire tutta l'umanità, perché ci furono molti indifferenti e noi abbiamo avuto molti che hanno aiutato agli ebrei, molti antifascisti, molti partigiani, molti preti e suore e civili che li hanno nascosti, ma la stragrande maggioranza no, purtroppo. Tutti costoro, i colpevoli diretti e gli indifferenti, erano esseri umani come noi e questa è una lezione fondamentale, perché vuol dire che potrebbe ripetersi, ma vuol dire anche che siccome erano esseri umani, noi sappiamo che possiamo impedirlo. Noi sappiamo che possiamo impedirlo e sappiamo anche che possiamo scegliere. Possiamo scegliere sempre da che parte stare ed è proprio su questo punto che tu ti soffermi, che è estremamente importante da un punto di vista storico, non solo riguardo alla memoria, perché gli storici se ne sono occupati tanto di processi ai criminali di guerra nazisti. E tu a proposito della scelta Fai qui citi due nomi che sono molto noti, Eichmann e Priebke, a proposito del caso di Via Rasella Fosse Ardiatine, di cui quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario del massacro nazista. Vorrei semplicemente ricordare un fatto, a proposito della banda musicale che tu prima hai ricordato, delle parole, perdonatemi, indecenti rispetto a questo fatto, perché la banda musicale era una colonna di 162 uomini dell'SS Undicesima Compagnia Terzo Battaglione del Polizai Regiment Bozen, inviato a Roma, come ricordava prima Emanuele, per operazioni di ordine pubblico e che viene attaccato in Via Rasella il 23 marzo del 1944 da un gruppo di 12 gappisti in una delle azioni di guerra più importanti e militarmente più riuscite della resistenza, non solo in Italia, ma in un paese europeo occupato dalle truppe tedesche. E la vigliacca ritorsione che si ha in meno di 24 ore senza avvisare nessuno e senza emettere alcun manifesto, questa è una delle altre fake news che circola ancora nel dibattito pubblico, per cui i nazisti avrebbero emesso un manifesto, un comunicato radio che invitava i partigiani a consegnarsi che in realtà non è mai esistito, quelle 335 persone vengono massacrate in alcune cave di Pozzolana abbandonate lungo la via Ardeatina, che allora era una via periferica della città di Roma, senza che nessuno sapesse nulla. E a proposito delle responsabilità, Pripke era uno di quelli che aveva il compito di spuntare dalla lista, man mano che entravano nelle cave per le esecuzioni, i detenuti e viene scovato in Argentina nel 1994 da un'emittente americana, viene stradato in Italia, processato e si ha l'ennesima polemica che scoppia in questo paese e che ha molto a che fare con quello che tu scrivi, perché tu parli delle giustificazioni che i nazisti si danno rispetto all'obbligo di rispettare gli ordini dei superiori ricevuti, mentre noi sappiamo, oggi lo sappiamo, che quest'obbligo poteva essere evaso semplicemente dicendo no, magari non si faceva carriera, ma semplicemente dicendo no. Allora questo è un punto importante, lo è anche per la ricerca storica, perché nonostante appunto la ricerca storica su questo abbia fatto luce da tempo, sul fatto che i nazisti avessero la possibilità di rifiutarsi, eppure ancora nel dibattito pubblico, nell'opinione pubblica circola ancora questo luogo comune, questo senso comune errato, per cui i nazisti in fondo avevano soltanto obbedito a degli ordini superiori. So che è una parte molto dolorosa, ma bisogna pur discuterne e affrontarla. Lo vedete questo mattone? Forse non lo vedete tanto, non so se è illuminato. Vedete che sopra il colore dell'argilla, è un mattone, da queste parti conoscete bene il colore dell'argilla, ma dentro è tutto nero. Questo è un mattone del forno crematorio 2 di Birkenau. Il nero è dovuto alle ceneri e al fumo delle persone che lì sono state bruciate, tra cui mia nonna. è inciso anche dei resti della mia nonna Nella, che sicuramente è stata bruciata nel crematorio 2, perché l'ha vista mio padre andare in quella direzione. Noi sappiamo tutto di chi ha prodotto questi mattoni, di chi li ha comprati, ci sono le fatture, di chi ha costruito quei forni. E cosa pensavano che fossero quei forni in serie? Dieci forni in serie per quattro volte, più quelli di Auschwitz, più quelli di Treblinka, più quelli di Sobibor, più quelli di Helmno, più quelli di Maidaneck, più quelli di Belzeck. Noi sappiamo tutto di chi ha progettato e tutti i nomi e abbiamo i disegni, i progetti, delle ditte che hanno progettato le camera a gas e il sistema di camera a gas e chi ha fornito gli acidi, mi ricordo come si dice in italiano, comunque di Cyclone Bay del prodotto, del cianuro che era il cristallo che veniva calato dalle SS nei torrini forati interni alle camera a gas e con il calore dei corpi dei mille entrati nella camera a gas, nudi e tutti abbracciati, sprigionava i vapori benefici che uccidevano non placidamente in un quarto d'ora o venti minuti e sappiamo tutti di chi ha fornito tutti gli strumenti, i materiali, mezzi per costruire quelle fabbriche di morti e dunque ognuno di loro ha un pezzettino di responsabilità. Sappiamo tutto del... di quello non è successo niente. Primo Levi lavorava, era un chimico, un laureato in chimica, un dottore chimico. Lavorava la Ighe Farber in uno dei sottocampi di Auschwitz, alla Buna. La Ighe Farber ha fatto miliardi sulla pelle degli schiavi che faceva lavorare fino all'asfinimento. Ebrei e non solo ebrei, deportati a Birkenau, ad Auschwitz, che come Primo Levi, che però fu un po' più fortunato perché lavorava in un laboratorio, venivano utilizzati in questa fabbrica dove si produceva per esempio la gomma per i mezzi militari nazisti. Dunque sappiamo tutto del meccanismo che stette a fianco dei criminali, che li aiutò, delle grandi industrie tedesche che ne hanno fatto un plissé, cioè il giorno dopo la fine della guerra hanno ricominciato a produrre altro, non è che siano state punite per essere fiorite durante la guerra sulla pelle di schiavi, per aver fatto miliardi sulla pelle di schiavi. Dunque, come dici tu, è vero che si poteva dire no. Per esempio nell'episodio che vi ho raccontato io del battaglione 101 o comunque della Ordnungspolizei si poteva dire di no senza subire delle conseguenze, perlomeno non mortali, diciamo così, venivi spostato ad un altro, magari non facevi carriera, in altri casi dire di no. Come alcuni gloriosi hanno detto di no, come l'organizzazione della Rosa Bianca, come coloro che provarono l'attentato a Hitler nella Tana del Lupo, come coloro che in Italia dissero di no. Sapete quanti furono i docenti italiani che al tempo del manifesto della razza, il manifesto delle falsità sulla razza italica superiore. In tutto il corpo docente italiano dissero di no nelle università alla firma di quel documento vergognoso che diede il la alle leggi razziali, facendo finta di dimostrare scientificamente che era vero che c'era una razza superiore. Lo firmavano scienziati, medici, scienziati, fisici, chimici. In sette dissero di no in Italia, in sette, dissero di no. Ovviamente la loro carriera si interruppe, ma siamo pieni di esempi. A Milano, all'università, il rettore che procedette all'esecuzione dell'espulsione dei docenti ebrei dell'università a Milano fu rettore anche dopo la guerra, senza una particolare interruzione. Forse sì, un'interruzione nel momento più cupo e di chiusura dell'università. Dunque, l'indifferenza, lo sappiamo, poi Liliana Segri ha dato un grande contributo in questo paese a mettere al centro della nostra discussione pubblica la questione dell'indifferenza. L'indifferenza è quella cosa che se non ci fosse stata, o perlomeno non così massivamente, noi non avremmo avuto quelle dittature. Quando nel settembre, i primi giorni, il 5 settembre del 1938 fu data applicazione in questo paese alle leggi razziali, a parte una sparuta minoranza all'inizio, poi un po' più grande, il paese le accolse. Il fatto che mio padre fosse stato espulso dalla scuola o che mio nonno fosse stato licenziato, ve lo assicuro, parola d'onore, non produsse nessun sommovimento nei ragazzini che erano compagni di classe di mio padre, transeat, avevano 13 anni, e che erano i compagni di giochi di mio padre, erano gli amici, erano tutti gli amici di mio padre, non è che ce ne fossero degli altri, ma nelle famiglie di quei ragazzi che tutto un tratto videro sparire nell'una la famiglia Fiano che non poteva più circolare, o nei fornitori della mia nonna, la mia nonna aveva una pensione, affittava le camere della stanza, faceva la spesa presso i suoi fornitori perché faceva da mangiare dalla mattina alla sera per gli ospiti di queste quattro stanze della casa e dunque si forniva da un droghiere, da un macellaio, da uno che vendeva le verdure, da uno che vendeva il detersivo, il pane, ed era amica di tutti questi in questo piccolo quartierino popolare centralissimo di Firenze, in via dei Benci, via dei Neri, piazza Baldassarre, Peruzzi, a metà tra Santa Croce e Piazza della Signoria, che somiglia tanto alle descrizioni di Vasco Pratolini, nel Metello soprattutto, che descrive di un altro quartiere, a San Frediano, e dunque questi fornitori facevano credito alla mia nonna perché si fidavano, perché era un'amicizia, era il tessuto sociale di cui sono fatte le relazioni umane nei luoghi che abitiamo, oggi un po' di meno, magari nella dimensione di Correggio di più, a Milano è un po' più difficile, ma comunque fa parte del tessuto amicale su cui si fonda la nostra vita ed erano sorrisi, abbracci e auguri e saluti per le vacanze, telefonate, e lei calava una corda con il cesto dalla finestra di questa abitazione della famiglia Fianna in via dei Benci 15 e costoro avvertite da una telefonata, mettevano dentro quello di cui aveva bisogno, senza bisogno di farsi pagare subito, il credito è un elemento della fiducia e il 5 settembre, credo che fosse il 5 più o meno, il giorno dell'applicazione completa del decreto sulle leggi razziali, poi convertito, costoro volsero il viso dall'altra parte, costoro e poi quelli che erano amici della famiglia della mia mamma e delle altre famiglie, la gran parte di questi volsero il viso dall'altra parte, non successe niente all'inizio sull'applicazione delle leggi razziali, ma come i tuoi conoscenti, amici, le persone fidate diventano cittadini di serie B, vengono preclusi dalla vita normale, non potranno più comprare regolarmente nel tuo negozio, non potranno più avere una radio, un telefono, una persona di servizio, avere dei dipendenti, una società, una proprietà, andare in ferie, essere dipendenti, avere dei dipendenti, lavorare, venivano licenziati, non potranno andare a scuola, non potranno insegnare e tu, cioè tu, Italia, non dici niente, a parte una minoranza lodevole, non dici niente, questa è l'indifferenza. Se non ci fosse stata l'indifferenza allora, ma se non ce ne fosse anche oggi per molte delle cose che vediamo, queste non accadrebbero. Allora, io vorrei a questo punto ascoltare la voce di tuo padre, so che c'è un filmato, è un'intervista che Enzo Biagi gli fece anni fa e vorrei che partisse questo filmato. L'altro superstite del lager, erano dodici della sua famiglia e ritornò lui solo, si chiama Nedo Fiano, forse Auschwitz vuol dire qualcosa che non si cancella da una vita, come ricorda l'ingresso nel campo? Fu il giorno in cui mia mamma venne poi gasata e cremata e che rendendosi conto nel questo turbinio di persone, di grida, di urla strazianti, capì che quella era l'ultima tappa per lei e gridando mi disse Nedo, Nedo, abbracciami, non ci vedremo più, mai più! Io mi sono precipitato su di lei, l'ho abbracciata e il suo volto era coperto di lacrime, sono sentito proprio scivolare sulla sua gota, la sento ancora questa sensazione e dopo un forte abbraccio ci hanno strappato e mamma è andata davanti a questi criminali che selezionavano i prigionieri per stabilire chi doveva andare a morire subito e chi avrebbe dovuto andarvi dopo due mesi, stremato dal lavoro insopportabile. Hai in mente qualche gesto di pietà, un carceriere buono, come racconta Silvio Pellico ad esempio? Durante tutta la mia esperienza di deportazione nei lager nazisti non ho ricordanza di un atto buono, anche perché forse c'era molto spionaggio dentro, fra le loro stesse file, non potevano lasciarsi andare. Cosa l'ha salvata? La mia eccezionale condizione fisica, avevo 18 anni compiuti da un mese quando sono entrato ad Auschwitz, parlavo il tedesco, quindi capivo, quindi eseguivo puntualmente quello che mi dicevano, poi cantavo, cantavo musica estremamente leggera, con parole inventate lì per lì perché non le ricordavo, ma per chi stava ad ascoltare questa cosa non avvertita, poi forse il mio ottimismo anche lì mi ha salvato. E in fondo, salvo alcuni periodi, la convinzione che ce l'avrei fatta a tornare indietro. Emanuele, tu nel libro Ricordi tuo padre, a un certo punto mi ha colpito un passaggio in particolare sul quale vorrei tu ti soffermassi. Tu racconti che ci fu una presentazione nel 1986 dei sommersi ai salvati, il cui tuo padre incontrò, il primo Levi, e tu dici di essere rimasto molto colpito dal modo in cui si parlavano, quasi ci fosse una lingua degli schiavi salvati, una memoria del dolore che li isolava dagli altri. Questa è una cosa che mi ha veramente molto colpito perché in fondo Levi attraverso la letteratura ci ha insegnato anche ad attraversarlo il male, a viverlo, a sentirlo. Ecco, qual è l'eredità che resta secondo te di quegli schiavi salvati, di quella loro lingua che in fondo era un loro modo anche di affrontare il trauma, il dolore, in modi diversi però. Tu questo lo dici, Levi in una maniera molto più cupa. Ma sai che io penso una cosa strana che ho scritto nel mio primo libro alla fine, che io penso che l'eredità più profonda che ci hanno lasciato è quella che non ci hanno detto. Io ho scoperto alcune cose di quello che ha visto mio padre, attraverso la lettura di un altro autore che si chiamava Tadeusz Borowski, un cattolico comunista antinazista deportato ad Auschwitz, a Birkenau, che ha scritto un libro che poi è stato tradotto non da tanto in Italia, che si chiama Paesaggio dopo la battaglia, che è il diario della sua esperienza a Birkenau. E da quello che lui racconta io ho capito, ho scoperto dettagliatamente che lui lavorava a fianco a fianco di mio padre. Nell'agosto del 1944 sulla banchina del treno di Birkenau facevano lo stesso lavoro, cioè si occupavano, come mio padre accennava, si occupavano della banchina del treno, quella che chi è stato a Auschwitz conosce, che divide il campo in due, da una parte i maschi, men and wrecks, e dall'altra parte il campo femminile, frauen links. E leggendolo ho pensato all'eredità di mio padre. Lui racconta, in una parte del diario, con un linguaggio molto crudo, che alla fine lo mandò in crisi perché fu... lui parlava molto di questo gruppo di polacchi resistenti che erano insieme a Birkenau, che appunto lavoravano insieme agli ebrei, un gruppetto, non credo che fosse una cosa frequente, e che aveva una vita interna, comunitaria, molto stretta, per cui lui con questo linguaggio crudo racconta... ci racconta della disumanizzazione dei criminali, ma anche delle vittime, di ciò che accadeva a quelli che Primo Levi avrebbe poi chiamato i sommersi, cioè coloro che venivano travolti dall'effetto di ciò che i nazisti producevano, con la fame, con le angherie, con le torture e perdevano il senso dell'umanità. E poi dopo la guerra fu accusato di aver parlato in maniera troppo negativa dei polacchi, soprattutto da una superstite di cui non ho letto le scritture perché non ci sono in italiano. Il libro esce nel 1947, lui era già un letterato poeta e si suicida nel 1951 per effetto di questa polemica. Lui racconta cosa facevano in questi vagoni quelli come lui e come papà che appartenevano a questo che si chiama Comando Canada, si chiamava, cioè il gruppo di lavoro di coloro che svuotavano i vagoni. Canada era una parola, una delle interpretazioni che si dà perché in quel linguaggio privato che solo loro conoscevano nel campo si chiamava Canada perché Canada è una parola che indica ricchezza e loro ripulendo questi vagoni. In parte c'era un lavoro atroce che adesso vi racconto, ma poi c'era anche un dover vagliare le valigie che i prigionieri, ai cui fintamente era stato chiesto di preparare delle valigie per il viaggio, si portavano dietro e erano costretti a lasciare sulla banchina appena arrivati perché in realtà andavano quasi tutti a morire oppure entravano nel campo ma non con la valigia perché quello non era un albergo. E lui racconta che dopo che l'umanità era scesa, mio padre diceva, vomitata da questi vagoni perché erano vagoni compressi con dentro 60 fino a 80 persone, quello di mio padre qualcuno meno di 60, dentro questi vagoni piombati che venivano aperti liberando il portellone scorrevole e queste persone che erano rimaste lì compresse in un viaggio come tu accennavi, terribile, quello di mio padre e dei miei nonni, sette giorni e sette notti, con solo un secchio per i bisogni fisiologici per 60 persone e un secchio d'acqua all'inizio, sempre per 60 persone, una sola sosta al Brennero, senza cibo, con uno che era morto e con donne che non riuscivano a lattare e i loro neonati piangevano, non lattavano perché non avevano più niente da dare da mangiare o appunto quelli che stavano morendo eccetera, dopo che costoro che erano usciti da questi vagoni erano stati instradati il 90%, l'80% alla morte e chi resisteva, chi poteva essere salvato perché ritenuto forte fisicamente dai medici nazisti, da Josef Mengele in fondo alla banchina veniva messo verso il campo, dopo intervenivano loro perché questi vagoni, racconta Borowski, andavano ripuliti e cosa rimaneva su questi vagoni? Oltre al fatto che erano ricoperti in genere da un orribile guano di bisogni fisiologici di coloro che avevano viaggiato, rimanevano a bordo molto spesso i neonati, i disabili fisici che non erano riusciti a scendere, non erano un treno con i gradini erano un salto di gradino così dai carri bestiame, gli anziani, coloro che non erano riusciti a scendere i neonati, perché c'erano dei neonati ogni tanto? Perché certe madri impazzivano, perché erano impazzite durante il viaggio per non essere riusciti a nutrirli, perché altre madri pensavano che lasciandoli forse si sarebbero salvati i neonati, avrebbero prese loro. Horke Semprun racconta di una scena terribile che lui ha visto a Buchenwald sulla banchina del treno di una mamma che scappava in seguita, non da neonato, ma da un figlioletto di una certa età, pubertà, non lo so, che lo rincorreva chiamando mamma, 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 e lei fuggiva, fuggiva e lui vedeva questa scena di questa mamma che incredibilmente fuggiva, probabilmente per pensare di salvarlo e che poi un SS li prendeva tutte e due e li metteva insieme sul camion che portava alla camera gas. E cosa succedeva di questi neonati che loro trovavano? Voi dovete considerare che quella era una fabbrica, una fabbrica di morti, invece che bicchieri, bottiglie, tavolini, sedie, lampade, redi, doveva produrre morti. Non a caso gli ebrei erano chiamati non prigionieri dai tedeschi, erano chiamati stucche, pezzi, perché quella era una catena di montaggio di morti, non c'era nessun altro scopo per l'edificazione del campo e dunque doveva essere molto efficiente il sistema. Tot ebrei arrivavano, in tot tempo un numero di loro non inferiore all'80%, doveva andare alle camere a gas, non si poteva fermare l'ingranaggio e andavano a piedi a Birkenau. Non si poteva fermare l'ingranaggio perché bisognava pensare a come portare dopo questi neonati o gli anziani o i disabili. A volte i neonati, appunto, questo era il racconto di Borowski, ma non solo di Borowski, anche di deportati italiani che cito, anche di Jorge Semprun che fu ministro della cultura del primo governo socialista spagnolo, resistente spagnolo deportato a Buchenwald, venivano lanciati in aria dall'SS, presi a due per i capelli, una volta che erano stati tirati fuori, lanciati in aria per fare tiro al volo con le loro armi. I disabili erano a volte o spesso, frequentemente, non lo so, questo è un racconto anche di mio padre che ne ha visto uno, poi c'è un altro racconto sempre, mi pare, di Alberto Mieli, sopravvissuto di Roma. Venivano messi delle volte, mio padre mi aveva raccontato, in delle pire di fuoco che c'erano alla fine della banchina perché non sempre i forni crematori erano sufficienti per bruciare tutti i corpi dei morti ammazzati quel giorno e quindi c'erano anche dei fuochi liberi, oppure, come nel caso della testimonianza di Alberto Mieli, venivano messi su un carretto di morti che venivano, quelli sì, loro erano vivi, disabili, e il racconto terribile su di una ragazzina a cui mancava un'arta, aveva una stampella e portati poi a bruciare insieme i morti da vivi e per gli anziani, non so, non c'è la descrizione, ma immagino se non era possibile farli andare da soli al forno crematorio o qualcosa forse di analogo. E poi Borowski racconta, e questo è un racconto sull'apice della disumanizzazione dei criminali, vi racconto solo alcune di queste cose, e poi Borowski ci racconta di ciò che succedeva per i sommersi nella disumanizzazione dalle vittime, lui racconta di questo gruppetto, di loro racconta Borowski, di loro, dei suoi amici, di questo gruppetto di polacchi comunisti che viveva insieme ogni paura, ogni speranza, ogni racconto, ogni ricordo, mangiavano insieme ma poteva capitare che la fame stravolgesse il criterio di umanità che noi conosciamo, che si basa per esempio sulla solidarietà umana, sulla fratellanza, e poteva capitare che qualcuno tra di loro nel gruppo di conoscenti rubasse il cibo all'altro per fame, perché i tedeschi volevano togliere l'umanità, qui non c'è un perché, e far tornare allo stadio animale dove funziona solo l'istinto fisiologico, rubare il cibo per un'alimentazione che valeva 400-500 calorie al giorno, questa brodaglia di bucce di patate che mangiavano a pranzo o di rape, e il furto di un assolo, solo di quel pasto in un giorno, l'unico, poteva causare la morte del compagno. E dunque questo era il limite inferiore della disumanizzazione delle vittime, dei criminali e delle vittime. E mi sono chiesto perché, appunto, mio padre non mi avesse raccontato in alcuni casi il massimo dell'abiazione che lui ha visto, cioè il gradino inferiore dell'umanità che lui ha visto, e mi sono dato alcune risposte, tre tipi di risposte. La prima, che non me l'abbia raccontato quando forse gli era venuto in mente, perché io ero piccolo e non potevo capire o ne avrei sofferto troppo. La seconda, è un insieme di risposte che riguarda loro e riguarda la risposta sulla tua domanda. Loro per molto tempo e forse fino alla fine, e chissà, forse Primo Levi, fino al momento di suicidarsi, se si è suicidato, hanno pensato, hanno temuto di non essere creduti, che era la maledizione di cui Primo Levi parla, che alcuni SS l'avevano gettato. Voi non sarete creduti, anche se tornate indietro. Poi il dolore che provocava in loro raccontare, me ne sono accorto solo da grande, non è solo raccontare di aver visto delle angherie, o delle violenze terribili, ma il dover raccontare che tra di loro si diventava disumani, tra di loro, perché rubare il cibo al compagno con cui ha appena condiviso la vita degli ultimi mesi, è una cosa che non appartiene al regno normale dell'umanità. Ho anche aver visto molte altre cose tra queste, moltissime altre cose tra queste. Ci sono molti racconti che io faccio, che ovviamente sono difficilmente credibili, e dunque faceva male, secondo me, nella risposta che mi sono dato. narrare di alcune cose che avevano visto, perché troppo basso era il livello dell'umanità che avrebbero dovuto raccontare, quasi un disvelare una parte dell'uomo che noi magari non possiamo capire. E poi anche per la vergogna, provavano un sentimento di vergogna, anche questo ne parla Primo Levi, ne ha parlato mio padre, ne hanno parlato un sacco, ne ha parlato Samy Modian. Perché loro, e non altri, si sono salvati? Perché io e non mia madre, diceva mio padre, che amava tanto sua madre. E terza risposta che mi sono dato, che è quella che mi fa andare avanti, che a volte nella vita il non detto è ricco come il detto. E questo chi ha figli e chi è stato figlio lo sa. Sa che ci sono delle volte che ci si ferma, o che non si ascolta da un genitore tutto quello che si vorrebbe ascoltare. Perché è così? Perché delle volte non si riesce, perché non si arriva fino in fondo. O anche perché si vorrebbe che l'altro continuasse. E comunque, a me è sembrato che questo non avermi raccontato tutto dell'abiazione dell'uomo sia uno sprone a continuare a scavare, che è il mio compito. E io penso il nostro compito nell'agire dell'essere umano. Dobbiamo continuare a cercare di comprendere l'uomo, perché ancora non abbiamo capito tutto. Ti vorrei fare ancora una domanda, se permetti. Perché tu, quello che stavi dicendo mi ha ricordato la testimonianza di una donna intervistata da Liliana Cavani nel 65 per il suo documentario La donna nella resistenza. Io non c'ero, non ero ancora nata, no, no. Però poi mi sono molto occupata di fonti audiovisive. E lei a un certo punto fa una domanda ad una partigiana che era stata internata a Ravensbruck. Campo costruito nel 39, dove transitarono solo donne. Donne che arrivavano anche in stato avanzato di gravidanza ed erano costretti ad ucciderli i loro figli. Ci sono delle pagine terribili di Lidia Beccaria Rolfi, che è tornata da Ravensbruck e ha raccontato questi episodi. Ebbene, la Cavani chiede a un certo punto a questa donna che cos'è che non perdonerà mai ai nazisti. E lei risponde, l'avermi fatto trovare dentro di me una donna che voleva sopravvivere nonostante tutto, che voleva sopravvivere anche contro gli altri. Tu ti soffermi su questa parte della disumanizzazione, racconti, citi un brano di Liliana Segre che io vorrei citare per il pubblico, perché tu dici giustamente che non soltanto le SS e i criminali si abituavano ai crimini commessi, ma si abituavano anche le vittime, anche le vittime si abituavano. E Liliana Segre ha scritto Quella volta fui obbligata a guardare in mezzo a una grande piazza, era stata eretta una forca da cui pendevano i corpi di due ragazze polacche di 16 o 17 anni che lavoravano con noi alla fabbrica e che erano state scoperte a fare sabotaggio. Fummo tutte obbligate a metterci in ginocchio. E il capo del campo fece un grande discorso in tedesco e fummo obbligate a stare lì un paio d'ore mentre queste poverette finivano di morire. E poi ci fu dato supplemento di cibo. Eravamo tutte molto contente di averlo avuto e tutte lo mangiammo. E questo ricordo è terribile perché con noi lì c'era la sorella di una di queste impiccate ma il suo pianto era solitario. Le altre volevano solo andare a prendersi il supplemento. E anche questa era la persecuzione. Era una grande persecuzione. L'aver indotto alla disumanità. L'aver fatto abituare a questa estrema forma di perdita di qualsiasi tipo di umanità. Sì, è lo scopo delle dittature. La perdita della libertà corrisponde poi alla perdita dell'umanità. È il percorso delle grandi dittature che abbiamo conosciuto nel secolo scorso. Il fascismo italiano, il nazismo tedesco, le forme del totalitarismo del comunismo sovietico. Perché lo scopo dei nazisti, Franz Stangel lo dice nella sua lunga confessione che fa Ghitta Sereni, la giornalista svizzera, in quello che poi diventa uno straordinario documento terribile e favoloso, se così si può dire, di confessione di ogni crimine che aveva compiuto questo comandante responsabile della morte di un milione di persone. in quel libro che si chiama In quelle tenebre. Lui lo dice a Ghitta Sereni che loro venivano formati e lui poi formò le SS a considerare che le vittime erano non esseri umani ma bestie e a spingere le vittime a diventare bestie, a comportarsi in modo tale. Il supplizio della fame serviva a quello. Infatti Liliana Segri fa questo racconto atroce che io ho voluto citare perché è cosciente di aver perso in quel momento l'umanità. Era accanto alla sorella di una di queste che piangeva vedendo la sorella rantolare alla forca ed era contenta di mangiare perché i nazisti avevano capito, come altri poi nella storia nei confronti degli ostaggi o dei prigionieri che far retrocedere le vittime, i prigionieri allo stato animale si fonda sulla privazione dei più necessari bisogni fisiologici come il mangiare, come la fame, come la sete. E dunque era un progetto, non era una casualità, era un progetto. Questo progetto può funzionare solo nei sistemi dittatoriali, può funzionare solo dove tu elimini la libertà, dove pieghi la coscienza delle persone, parlo degli assassini, e che hanno bisogno di piegare la coscienza delle vittime per poter compiere, dice Stengel, più facilmente i loro crimini. Ma è a valle del processo di costruzione dei sistemi totalitari, dei sistemi liberali, dell'assenza di libertà. E anche, lo dico non casualmente, di quei progetti anche contemporanei di ridurre lo spazio del rapporto tra le scelte popolari e l'esercizio del potere, di ridurre questo rapporto che dovrebbe essere quasi orizzontale in una piramide in cui al vertice c'è una persona sola. Nelle dittature, io faccio un capitolo sulla libertà come peso, scrivo un capitolo sulla libertà come peso, nelle dittature, come dicono tantissimi straordinari studiosi, proprio della fine della guerra, c'è una cessione di libertà dalla parte sostanziale del popolo che aderisce alle dittature ad una persona sola. e in questo rapporto che diventa una cancellazione della propria individualità, in fondo l'immagine iconografica che abbiamo più frequente delle dittature sono le piazze piene, adoranti un capo come se fosse un dio di una religione pagana, ma insomma religione mi sembra offensivo nei confronti delle religioni, comunque di un rito pagano, diciamo, di adulazione, di adorazione di un capo a cui tutto viene concesso, lì si inscrive il meccanismo che poi pretende che tu abbia un nemico e che questo nemico sia degradato il più possibile, osservando la sua degradazione, come proprio esattamente nell'episodio che racconta Liliana, perché osservando la sua degradazione tu metabolizzi l'idea che non stai uccidendo nessun essere umano, stai semplicemente eliminando persone che sono fuori dal registro degli esseri umani che tu consideri. E però Liliana Segre, e lo metto verso la fine del libro, fa anche questo racconto molto celebre che ha ripetuto tante volte, che ci restituisce esattamente che cosa sia invece la libertà. Liliana Segre era alla fine della sua prigionia, l'ultima ora della sua prigionia, nel gennaio del 1945, le truppe sovietiche che libereranno, il 27 gennaio del 1945, il campo di Birkenau, si avvicinavano sempre più da est, ormai erano alle soglie di Birkenau, cioè della Polonia orientale, no, neanche più della Polonia orientale, le Auschwitz e nell'Alta Slesi, ormai avevano attraversato metà della Polonia, e le truppe alleate, che avevano ovviamente risalito l'Italia, liberato la Francia, eccetera, erano ormai dentro la Germania, e dunque i nazisti avevano un compito che è difficile da dire così, ma è così. Non riuscivano ad uccidere tutti i prigionieri che avevano, non volevano lasciarli liberi, non volevano lasciare i testimoni, facevano esplodere, se riuscivano, come fecero a Birkenau, i resti delle strutture di morte, ma soprattutto dovevano convergere, scappare verso il centro, addirittura Hitler ancora pensava, forse a marzo, all'inizio di aprile, di poter conservare un nucleo interno alla Germania, di un piccolo Reich da salvaguardare, su cui contrattare l'armistizio, insomma, dovevano però trasferire questi prigionieri con quelle che furono poi chiamate le marce della morte, perché ormai privi sostanzialmente di binari ferroviari li facevano trasferire a piedi nell'inverno, siamo a gennaio, nell'inverno polacco e in questi camminamenti in mezzo alla neve, al ghiaccio, di questi scheletrini, di ragazzine vestite solo di una blusa di cotone e così coloro che cadevano potevano essere o morivano da soli di assideramento o venivano giustiziate sul posto. Era un sistema sia di spostamento che di riduzione del numero di prigionieri. Ma ad un certo punto, nel racconto di Liliana, probabilmente i russi erano proprio lì all'imitare della tenda, cioè proprio sentivano le voci e colui che era stato il suo sorvegliante, un SS che forse prima, nei giorni prima, era stato proprio quello che le teneva in riga, che chi lo sa, che le vessava, che le affamava. Comprendendo il pericolo imminente, si sveste della sua divisa, la SS, e getta la pistola nella neve. E Liliana Segre la guarda e pensa, ora la prendo e l'uccido e mi vendico. e poi ci dice, no, decisi che non ero come lui, che volevo essere diversa da lui e che ero libera. E lì ci collega, secondo me, in maniera mirabile, la questione della scelta alla questione della libertà. Che è il contrario, se ci pensate, di dire qui non c'è un perché. È vero che il momento in cui c'è la riacquisizione della libertà è come se ricominciasse il mondo libero, perché Liliana può scegliere, mentre nei sistemi totalitari, in tutti i sistemi totalitari, e anche in tutti i tentativi, anche contemporanei, di modificare le democrazie liberali, quando ci propongono le democrazie illiberali. Vuol dire che vogliono ridurre la nostra libertà di scelta su cui si fondano le nostre democrazie. Le dittature sono quei luoghi dove non si sceglie, salvo che lo si voglia fare perché si resiste anche a costo della propria vita, ma in quei casi di Birkenau non c'era la scelta e quando a Liliana la sorte porta in dono di poter diventare come costoro, di poter scegliere di togliere la vita a qualcuno, decide di non farlo e ci dice che quella è la libertà e aveva ragione. Noi siamo liberi perché possiamo scegliere e questa è la fortuna che ci hanno regalato loro. È vero quello che dici, la democrazia è faticosa, la democrazia impone partecipazione, responsabilità, i sistemi totalitari, i regimi totalitari avevano voluto forgiare l'uomo nuovo, costruire l'uomo nuovo e invece la democrazia ha vinto e noi siamo una democrazia forte anche se con qualche problema. Forse tu hai scelto come sottotitolo la lezione della Shoah. Allora ti chiedo qual è la lezione della Shoah? Alla fine di tutto, ciò che possiamo dire anche alle giovani generazioni rispetto al senso, al valore della scelta, al valore della libertà, dell'impegno, della partecipazione? Ai giovani dobbiamo dire che si troveranno di fronte a problemi sempre più complessi perché le nostre società sono più complicate di quando eravamo ragazzi noi, perché la società digitale li pone di fronte ad un sistema molto diverso di relazioni, spesso sono relazioni uno a uno con quell'apparecchietto che abbiamo tutti in tasca, spesso si iscrivono magari con persone che non conoscono, si riuniscono di meno in luoghi dove c'è la socialità, la collegialità, mentre la relazione umana nasce proprio dal confrontarsi insieme con altri, a decidere insieme con altri, a cercare di costruire opinioni magari maggioritaria insieme ad altri. Non possiamo chiedere troppo alle giovani generazioni, dovremmo essere noi che decidiamo come affrontare questa nostra nuova modalità dello stare insieme che spesso non passa dalla relazione umana. Dobbiamo spiegargli che bisogna appassionarsi alla vita, non vivere la vita come fili d'erba al vento, perché prima o poi succede che ci sono problemi complessi, magari non quelli che affrontarono i nostri genitori o nonni tra gli anni 20 e 40, ma loro hanno avuto un esempio di cosa voglia dire un problema complesso che sconvolge il mondo con il Covid, che ferma il mondo, che impedisce un'attività normale che li confina o ci ha confinato nelle case e di fronte a questa complessità come avete visto sono sorte di nuovo delle correnti di pensiero irrazionali, sono sorte di nuovo le idee del complotto che qualcuno avesse architettato un disegno macabro e misterioso di organizzazione della fine del mondo e sono risorte anche forme di violenza in questo paese per manifestare contro il vaccino si è assalita la sede della CGL come cento anni prima assalivano le sedi della CGL i fascisti, i manipoli di fascisti anche in questa regione, in questo territorio e dunque dobbiamo spiegargli che di fronte alla complessità non cadano nella tentazione come le sirene di Ulisse di accedere alle scorciatoie che gli vengano proposte le scorciatoie della forma di organizzazione dei sistemi umani diamo più potere a una persona sola limitiamo il potere di chi ci giudica in maniera terza magari evitiamo che proprio tutti i giornali possano dire quello che vogliono su cui governa io sono un uomo che non pensa affatto che il fascismo possa tornare o che il nazismo possa tornare o che noi rischiamo invasioni ma che ci possano essere in un futuro molto prossimo delle prove di riduzione di alcune delle forme a cui siamo stati educati di confronto democratico quello sì e comunque se non quello altre cose dannose in Germania c'è un partito che vale il 24% che si chiama Alternative für Deutschland che ha proposto la reimmigrazione degli stranieri che ha proposto delle deportazioni c'è stata una bella risposta ci sono stati un milione e mezzo di persone per strada ma è pur sempre voler dire che qualcuno non ha perso il vizio diciamo un quarto di quell'elettorato un recentissimo sondaggio di Tecné per per il programma di Bianca Berlinguer ha detto che il 63% di questo paese considera che l'antifascismo sia un valore non sminuibile ma il 24% non la pensa così non la pensa così neanche qualcuno tra le più alte cariche di questo Stato che si vergogna o evita di dirsi antifascista come recita la nostra Costituzione dunque ai ragazzi bisogna dire che il passato non ritorna mai uguale ma dal passato bisogna imparare per lo meno perché non ritorni neanche in forme diverse non dimenticate mi tengo queste ultime parole come prezioso frammento delle molte testimonianze che ho ascoltato dai sopravvissuti o che ho letto delle cose che ho visto dei terreni che ho calpestato delle strade polverose o fredde gelate che ho percorso con molte e molti di loro ritornando nei campi dove furono ragazzi e dove persero i cari e gli amici mi tengo queste parole scolpite della bambina Liliana che scelse la libertà che nella libertà scelse di non uccidere di non vendicarsi di non essere come loro che mentre gli assassini si cambiavano d'abito e magari fuggivano di fronte alla sconfitta di ogni loro idea e sarebbero magari riemersi in una nuova vita avendo nascosto il loro passato e sarebbero loro stati liberi ecco Liliana scelse di essere se stessa di non parlare quella lingua di odio e di violenza non potrebbe esserci lezione finale più difficile e più bella beh io mi ero sempre nutrita di odio e di vendetta avevo sempre sognato di vendicarmi e quando ebbi l'occasione nel vedere questo comandante dell'ultimo campo buttare l'arma per terra io proprio pensai adesso lo uccido mi sembrava proprio che io non avessi alternativa che era quello che mi stava capitando io dovevo raccogliere quell'arma e sparargli ma io avevo sempre scelto la vita io non ero come lui io avevo avuto una famiglia dolce una famiglia di persone buone mai nessuno dei miei avrebbe avuto il coraggio di fare una vendetta simile e così anch'io non l'ho scelto ho scelto di non farlo sono stata molto contenta di non aver raccolto quella pistola ringraziamo i nostri ospiti Emanuele Fiano e Michela Ponzani per il profondo dialogo che hanno instaurato ringraziamo tutti voi per il profondo silenzio che avete instaurato e ci auguriamo che da questo silenzio possa nascere tanto rumore quel famoso fare memoria che cerchiamo in tutti i modi di instaurare quotidianamente ringraziamo Sara Gozzi per la voce e per le letture vi ricordiamo che all'ingresso c'è la possibilità di abbonarsi a primo piano grazie al vostro supporto riusciamo a organizzare eventi di questo tipo vi ricordiamo anche all'ingresso la vendita dei libri di Emanuele sempre con me le lezioni della Shoah e il libro di Michela processo alla resistenza saranno vendute dalla libreria Liga Bue vi anticipiamo cogliamo l'occasione per il prossimo evento che sarà verità nascosta e tradite un dialogo con Paolo Borrometi che si terrà venerdì 16 febbraio al palazzo dei principi di Correggio e avremo modo di approfondire un altro tema molto delicato che è quello della mafia nel nostro paese grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti